Matteo Trentin ritrova finalmente la via della vittoria e scrive una piccola pagina di storia delle semin. Il Trentino della UAE infatti è il primo italiano di sempre a conquistare il successo nel classico appuntamento belga di inizio marzo. Trentin è stato splendido animatore dell'azione A8 che ha caratterizzato il finale di corsa, ha affrontato sempre in testa i tratti di pave in salita e in volata è partito lungo contenendo il tentativi di rimonta di Hofstetter. A completare il podio è stato De Bont mentre il norvegese Tiller al nono posto ha regolato la volata del gruppo. Per Matteo Trentin si tratta della 27esima vittoria in carriera, la decima stagionale per la UAE Emirates. Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!